Chi è oggi Jennifer in tre parole? Ah, tre parole! Direi consapevole, innamorata e forte. È così che mi vedo. Anche noi amiamo vederti così. Ti faccio un'ultima domanda. Che cosa rimane di quella ragazzina cresciuta nel Bronx? Oh sì, è proprio questo che mi fa andare avanti. Quella ragazzina è sempre con me. Grazie davvero Jennifer, veramente grazie per questa intervista. Ti chiedo un regalo personale. Mia figlia, che ha otto anni, si chiama Sofia, ti adora. Potresti mandarle un saluto? Ciao Sofia! Ciao! Grazie, 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 grazie. Spero un giorno di poterti conoscere di persona qui in studio. Grazie. Ciao, ciao!